Bella a tutti ragazzi qua Z3FHD tornato con questo nuovo commentary con questo nuovo microfono avuto regalato ieri 29 luglio al mio compleanno allora queste sono delle cuffie molto buone si chiamano, aspetta, si chiamano Ozon Attack e niente, d'ora in poi farò commentare di qualità perchè questo microfono mi permette davvero di commentare ottimi gameplay con ottima qualità audio allora, oggi vi commento questa nucleare tirata con mini uzi avete votato nello scorso video allora, è stata molto facile prenderla tranne un po' alla fine che stavo quasi per morire fortunatamente ma non so se avete letto su facebook l'ho fatto anche con l'MP5K ma solo quando ho tirato l'arrier mi sono accorto che non stavo registrando ho fatto un epic fail pazzesco allora, le ricompense sono sciacallo, potere d'arresto e comando questa volta sto usando comando al posto di mira stabile allora, cosa posso dirvi? beh, sono contento di aver migliorato la mia qualità d'audio dopo numerosi lamentele che mi dicevano se non cambi microfono non cresci se la qualità audio tua è molto scarsa beh, adesso eccomi qui vi raccomando restate collegati perchè d'ora in poi farò commentare di qualità allora, il prossimo video stavo pensando di commentare ho una nucleare live oppure una Moabin live metterò in descrizione qui un commento tra Moabin live, carica nucleare in live quello che avrà più voti lo farò allora, come secondaria stavo usando l'RPG l'ho messo giusto per infatti potete notare che ho già finito i colpi questa mappa appena prendi l'arrier ti fa una strage perciò non è nulla di complicato prendere la nucleare molti mi hanno chiesto di fare un setup video cioè far vedere le classi consigliate su Mv2 ci sto pensando, non male come idea ma molto presto lo farò allora, ormai abbiamo quasi raggiunto i 1000 iscritti se tutto va bene, siete d'accordo e lasciate 50-60 mi piace come sempre a questo video farò per i 1000 iscritti un vlog dove mi farò vedere in faccia allora, ormai siamo qui che quasi preso il support aereo intanto mi è arrivato un messaggio al cellulare non me ne fotte niente della team altro che posso dirvi ah, stavo pensando di creare un nuovo account perché ormai ho raggiunto pienamente la mia lista amici non posso più cancellare nessuno stavo appunto pensando di crearlo magari chiamarlo X con la X rough HD non male, non lo so adesso vedremo cosa riuscirò a fare perché problemi con la CL non ce li ho me la fa un mio amico ragazzi, io la CL non le faccio più quindi non scocciatemi evitate questi con me, queste domande tramite messaggio allora ormai ancora manca un po' alla fine del video non so neanche a quanto stiamo allora allora, ho detto il fail pazzesco con le MP5K quindi mi tocca di no riprovare a prendere la nucleare l'ho presa su favela quel giorno l'ho presa veramente in 4 minuti veramente una cosa epica però purtroppo non mi sono accorto del fail allora, molti mi hanno chiesto anzi, mi ha chiesto una persona di realizzare un montaggio beh, sto lavorando non vi accenno nulla ma molto presto vedrete sul mio canale un nuovo montaggio vi avviserò e vi terrò informanti sempre sulla pagina Facebook allora, stavo pensando anche di fare un ritorno su zombie magari live in streaming non lo so può essere una cosa bella ma può essere anche una cosa noiosa perché è molto lungo giocare su zombie a Black Ops e vi raccomando mettete mi piace sulla pagina Facebook perché per restare collegati eventuali novità eventuali fail come ho detto nello scorso video purtroppo ho il mio router ADSL che è andato a puttane gli ho spaccato un sacco di pugni sopra tanto da doverlo dividere a metà ma fortunatamente mio padre ce ne aveva uno di riserva e al momento sto usando questo che non è neanche Wi-Fi si chiama Alice Business la cagata di modem vabbè, ormai siamo quasi alla fine del video fra un po' vedrete la venticinquesima uccisione che è stata veramente rushata allora sono contento per tutti gli auguri che mi sono arrivati il 29 luglio grazie mille grazie a tutti e niente ormai il video è finito ci sentiamo anzi no ancora è presto lol scusate ma stavo aperto con audacity mi sono confuso il video dovrebbe durare 5 minuti e qualcosa 5 minuti e 59 allora niente tutto qui magari ci salutiamo già da ora perché non so più che dire vi raccomando mettete mi piace come sempre e ci si sente nel prossimo commentari di una nucleare o magari una mob con lo sniper ci si sente ciao ciao ciao